Quest'anno per le nostre festività natalizie faremo una cosa che Andorra non ha mai avuto, eleveremo un albero di 12 metri al centro della città e l'inaugureremo con tutti i ragazzi delle scuole il giorno 6 dicembre nel pomeriggio e sarà un bel evento perché innanzitutto è un albero già tagliato, quindi non è un albero che abbiamo tagliato apposta per fare il Natale, ma un albero di cui era previsto naturalmente la sostituzione. Faremo questo concerto con tutti i ragazzi delle scuole per inaugurare il Natale, con la speranza che i cittadini e i turisti vengano ad Andorra a vedere questo albero e aiutino un po' la nostra economia. Questo albero verrà installato nella strada fra Via Roma e Piazza della Chiesa, chiuderemo 20 metri di strada e installeremo questo albero proprio nel cuore della città.